ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ho pensato di creare l'iniziale del nome di mio figlio inserendo in questo stampo in silicone alcuni oggetti che ricordava la sua nascita ho messo la sua foto il braccialetto con i suoi dati dell'ospedale un termometro è il suo amatissimo ciuccio che lo faceva stare tranquillo per questo progetto utilizzo la resina della resin pro per chi sarà interessato all'acquisto di questa resina c'è uno sconto del 10 per cento con il codice fai da jo 10 ve lo lascio in descrizione prima di usare la resina vi ricordo di usare la maschera protettiva e dei guanti in lattice le resine epossidiche sono le prime cause di dermatite da contatto calcolando la quantità di resina per questo impiego userò intorno ai 500 grammi mi sono accorto di un piccolo problema nel momento in cui ho versato la resina in quanto il termometro e il ciuccio avevano cominciato a galleggiare per il ciuccio sono riuscito a sistemarlo in questo modo usando una stecca in ferro tenendolo a basso invece il termometro l'ho rimosso se vi capita di rifare questo progetto vi consiglio di incollare prima gli oggetti e poi versare la resina cosa che io non ho fatto ma sbagliando impariamo ho aggiunto anche alcuni brillantini su tutta la superficie dello stampo perché mi sembrava troppo vuoto mi sembrava troppo vuoto mi sembrava troppo vuoto mi sembrava troppo vuoto vi ricordo che lo stampo l'ho acquistato su amazon arriva con una base in legno che all'interno ha un led che illumina la lettera una volta asciugata se notate già qui si vedono alcune bolle che ora eliminerò con la scala di pistola termica ora ragazzi aspettiamo 3-4 giorni e poi potremo avere la nostra bellissima lettera in resina dopo circa cinque giorni l'ho tirata fuori dallo stampo e mi sono accorto che aveva fatto due bolle abbastanza grosse per un'urgenza mia sono dovuto uscire fuori di casa e non sono più potuto intervenire a spaccarle e un altro problema era la scritta che aveva il braccialetto non si notava più e quindi per il prossimo progetto del genere ho pensato di fare in un modo diverso cioè fare una piccola colata di almeno un centimetro intanto che i miei oggetti rimangono incollati al fondo e dopo altri due giorni rifare la colata finale credo che in questo modo non ci saranno più problemi bene ragazzi ditemi nei commenti cosa ne pensate se avete qualche dubbio fatemelo sapere se non sei ancora iscritto questo è il momento giusto per farlo lasciami un like iscriviti se non hai ancora fatto e noi ci vediamo con un altro video tutorial lunedì prossimo ciao